Ciao da Apsim! Clamorose le dichiarazioni di Paul Pogba dopo la vittoria in rimonta, bellissima tra l'altro la partita della Francia contro il Belgio 3-2, semifinale di Nations League all'Allianz Stadium e quindi finale tra la Francia e la Spagna, finale terzo e quarto posto all'Allianz Stadium domenica alle 15 tra Italia e Belgio. Clamorose le dichiarazioni di Pogba dicevo perché non le aveva mai fatte, cioè Pogba non aveva mai detto quello che ha detto ieri ai microfoni di varie testate internazionali, non solo di Mediaset in Italia. Non aveva mai detto Pogba cose tipo Torino è casa mia, a Torino sto bene, mi sento con i miei vecchi compagni, ho ancora un anno di contratto con il Manchester United e poi si vedrà. Non era mai stato possibilista? Non aveva mai stuzzicato la fantasia ed anche le emozioni dei tifosi della Juventus, vero? Non era mai successo? Ed infatti solo perché non era mai successo Pogba è ancora al Manchester United appunto e non è ancora tornato alla Juve, perché se fosse già successo, se Pogba avesse già fatto delle dichiarazioni simili come quelle che ha fatto ieri sera 7 ottobre, probabilmente Pogba sarebbe già tornato, vero? In realtà capite dal sarcasmo che non è esattamente la prima volta, anzi come ben sapete è l'ennesima volta, non si contano più le dichiarazioni, le occasioni in cui Pogba ha tirato fuori questa vecchia storia e ha stuzzicato appunto il mondo bianconero in generale, noi tifosi ma evidentemente anche la società, quindi anche la parte istituzionale con la dirigenza ma anche con lo staff e con effettivamente i suoi ex compagni. Pogba precisamente ha detto questo, ha detto a Torino sto sempre bene, Torino è casa mia, mi sento ancora con i miei ex compagni, in particolare Dybala e Quadrado mi pare che ha nominato e ho ancora un anno di contratto con il Manchester United, poi si vedrà, poi vedremo. Che quindi tradotto, messo tutto insieme significa sto pensando di tornare alla Juve, voglio tornare alla Juve, vorrei tornare alla Juve, ci sono tutti quanti i presupposti però manca un piccolo dettaglio, cioè le firme, un accordo anzi, prima delle firme, accordo firme e quindi tutto quello che serve per formalizzare. E' quello che siamo arrivati veramente a fare quasi fino alla fine, cioè mancava veramente un dettaglio, quando nel 2020, pre-pandemia, e quindi c'era già stata una trattativa, c'era già stata una mossa da parte di Pogba e c'era già stato praticamente l'accordo. Perché non si è arrivati fino in fondo? Perché non si è arrivati fino alla fine per il ritorno di Pogba alla Juventus? Solo per la pandemia di mezzo? Questo mi lascia un po' perplesso, perché andando ad analizzare infatti che cosa sappiamo su Pogba di ritorno alla Juve nel 2020, sappiamo che giornalisti come Fabrizio Romano, che notoriamente è molto ben informato sulle vicende di Casa Raiola, hanno riferito che Pogba nel 2020, senza pandemia, sarebbe sicuramente tornato alla Juve, perché l'accordo era già stato trovato, era praticamente un affare fatto. Un affare fatto quindi a febbraio, a febbraio-marzo, inizio marzo, poi scoppiata la pandemia, sono cambiate le cose. Che cosa è cambiato? Lo sappiamo dalle parole di Paratici, in lockdown, in collegamento telefonico, in collegamento telematico con Sky, in un'intervista ad aprile 2020, quando disse Pogba è uno di quei giocatori che devono capire di dover abbassare le loro pretese di stipendio. Il dirigente della Juventus non dice queste cose di un giocatore del Manchester United se quel giocatore del Manchester United non sta per diventare, per ritornare, giocatore della Juventus. Cioè, quelle parole sapevano tanto di messaggio a Pogba, abbassa le pretese e chiudiamola a fare, già che è intervenuta la pandemia e non possiamo più rispettare l'accordo che avevamo preso qualche settimana fa, qualche mese fa, in quel contesto, in quella primavera 2020. Evidentemente, che cosa è mancato? L'accordo economico, il secondo accordo economico, corretto alla luce delle nuove necessità di crisi per la pandemia. Pogba, in sostanza, non ha abbassato le pretese. O forse non le ha abbassate Raiola, o forse non le hanno abbassate entrambi. Ma probabilmente con il Manchester United un accordo già c'era. Può darsi anche che pure il Manchester United non abbia abbassato le pretese in quella primavera-estate 2020, per definire a tutti gli effetti quell'affare. In ogni caso, mancava poco, quel poco non è stato fatto. Ora, se io devo tornare a casa, non aspetto che mi diano un sacco di soldi. Mi accontento anche di zero, figurativamente. Cioè del minimo. Quindi perché Pogba ci dice ancora, dopo un anno, un anno e mezzo, due anni, Torino è casa mia, fa le storie Instagram con i cuoricini, taggandosi a Torino, come a dire, che bello, sono qui. Però poi, quando ha l'opportunità di tornare, non torna. Quando si tratta di fare una rinuncia, non la fa. O non la fa abbastanza. Perché vuole continuare a prenderci in giro. Perché Pogba ci sta prendendo in giro. Vi sta prendendo in giro. Vi sta prendendo in giro, perché io non mi faccio prendere in giro più. Da un sacco di tempo. Credo di aver già fatto un video simile. Una delle ultime volte in cui Pogba ha tirato fuori dichiarazioni del genere. Che ormai sono stucchevoli. Ormai sono insopportabili. Perché non siamo stupidi. Caro Paul, non siamo stupidi. Possiamo essere sensibili. Chi è sensibile a Pogba? Io non lo sono. Per me è un giocatore come tanti. È un giocatore come tanti. In cinque anni che se ne è andato. Ne sono venuti fuori di centrocampisti forti in Europa. Non c'è soltanto lui. E ne sono venuti fuori di centrocampisti più giovani. E che costerebbero meno di quello che sicuramente comunque va a costare Pogba. È chiaro che se va a parametro zero. Perché va in scadenza 30 giugno 2022. Quindi alla fine di questa stagione. Allora costa relativamente poco. Ma lo sapete bene quanto costano i parametri zero con Raiola. Lo sappiamo bene. Si è visto con Donnarumma. Non sono mai parametri zero. Sono praticamente dei costi a tutti gli effetti. E non c'è solo il costo quasi del cartellino che vale come commissione alla gente. Ci sono anche le commissioni dopo. Infatti in un approfondimento sul bilancio della Juventus. Che esce sempre in giornata. Vi parlo anche di questo. Di quanto la Juve spende. E di come spende per i procuratori dei giocatori. Cioè come sono stati fatti i contratti. Come sono stati fatti gli accordi da parte della Juventus. Quindi c'è Raiola ma non c'è neanche solo Raiola. C'è proprio la Juve che butta un sacco di soldi in questo tipo di operazioni per questi dettagli. Con una debolezza contrattuale notevole. Ma ripeto ne parlo a parte. La sostanza adesso qual è? Che non possiamo sperare che Pogba sia parametro zero. Non esiste parametro zero con Raiola di mezzo. E la Juve non ha questi soldi. Non ha questi soldi perché ha già delle cambiali firmate. La Juve deve pagare Chiesa. Deve pagare se lo riscatterà Morata. Deve pagare Locatelli. Deve pagare Khin. E forse va anche a prendere Vlaovic. Dove lo mette Pogba? Come lo paga? Vendendo Dybala? Vendendo il Delict? Vendendo entrambi? Impoverendosi sotto altri profili? E voi vorreste per esempio rinunciare a Delict per avere Pogba? Perché sono due ruoli diversi. È la stessa cosa che abbiamo fatto nel 2016. Abbiamo rinunciato a Pogba per prendere Higuain. Che era un'altra cosa. Che era un'altra cosa. Quindi adesso senza addentrarci troppo nel discorso tecnico. Vediamo anche che cosa ha fatto Pogba nel frattempo. Perché tra l'altro è nato 15 marzo 1993. Quindi quest'anno ha fatto i suoi 28 anni. Tornerebbe a 29. Voglio proprio vedere quanto costa Pogba a 29 anni. Che nel frattempo ha fatto 208 presenze con il Manchester United. Con 38 gol e 49 assist. Con la Juventus aveva fatto in meno tempo tra l'altro. 178 presenze. Quindi esattamente 30 presenze in meno. Con 34 gol solo 4 gol in meno. E 40 assist solo 9 assist in meno. Quindi per dire che andando a parametrare Pogba alla Juve ha fatto di più e meglio. In 3 stagioni. Adesso guardate quante ne sono perché è stato anche infortunato. Ma comunque non ha avuto il rendimento che ha avuto alla Juve. 50 presenze in nazionale compresa quella di ieri con 5 gol e 5 assist. E di trofei un mondiale. Con la Francia però non c'entra nulla la Juventus e il Manchester United. E con il Manchester United una Coppa di Lega e un Europa League. Ha vinto più trofei europei della Juve. Ma ha vinto molti molti meno trofei. Quindi significa che Pogba non è quello che è andato via dalla Juve. E lo abbiamo detto tante volte. Si è indebolito. Quindi non è più quello lì. Lo so che è difficile slegarsi dall'etichetta. Dal nome. Dici Pogba ti ricordi quello che era la Juve. Non è la stessa cosa. È ancora forte. Ha ancora dei colpi pazzeschi. Può essere ancora un giocatore determinante. Ma non è più quello lì. E già che fosse stato. Quello che ha lasciato la Juve sarebbe comunque male. Perché all'età a cui ha lasciato la Juve. Che aveva praticamente 23 anni. Doveva continuare a crescere. Invece non solo non è cresciuto. Ma non è neanche rimasto allo stesso livello. Quindi comunque non vale più tanto la pena. Ora il discorso del ritorno del 2020. L'abbiamo affrontato. Il discorso ancora da aggiungere. È quello della reale situazione di Pogba. Quindi nel 2020 poteva tornare. Ma poteva tornare e poi non è tornato. E che ha fatto? È stata esercitata l'opzione di rinnovo. In realtà l'anno scorso. Poi nel 2021. È stata esercitata l'opzione di rinnovo. Per un anno. Che già c'era nel contratto di Pogba. Con il Manchester United. Quindi non c'è stato un vero e proprio rinnovo. Una vera e propria trattativa. Semplicemente si è andato ad aggiungere. Un anno di contratto. Come previsto già dall'accordo. Ora qual è la situazione? Pogba va in scadenza 2022. Sapete cosa scrive l'Equipe. In queste ore. Quindi quotidiano francese. Che non per questo è assolutamente ben informato. E dice sempre la verità. Ma c'è un'altra fonte. C'è un'altra voce. Rispetto a Pogba. Che dice sempre le stesse cose. E ci prende in giro. Sapendo. Che così. Andiamo ad ascoltare quello che dice. Perché poi. Parentesi. Adesso vi dico cosa dice l'Equipe. Perché Pogba continua a dire così? Perché lo sa. Lo sa lui. Lo sa Raiola. Che dicendo così. Voi. Noi. Andiamo a parlare. C'è Avesim che fa il video. C'è un altro che fa il video. Ci sono i post sui social. Ci sono i commenti. E tutti quanti che vanno ad incensare Pogba. Lo fa per ritorno di immagine. Lo ha già fatto. Poi cosa è successo? È rimasto al Manchester United. E ripeto. Non c'entra la pandemia. Perché se lui avesse davvero voluto. Ritornare alla Juventus. L'avrebbe potuto fare. Abbassando le pretese. Le condizioni si sarebbero trovate. Perché la volontà c'era. Da entrambe le parti. Tanto che l'accordo era stato sostanzialmente già trovato. Quindi continua a dire solo perché gli serve. Per immagine. Poi. Può darsi anche che questa volta. Succede che torna. Ma non significa. Che le volte precedenti. Era sincero. Quando diceva di voler tornare. E che è sincero adesso. Sta continuando a dirlo solo. Per strumentalizzarvi. Io non mi faccio strumentalizzare più. Anche se sto qui a fare il video. Ma sto qui a fare il video. Sperando che. Vi calmiate sul ritorno di Pogba. Sperando che capiate. Che ci sta prendendo in giro. Vi sta prendendo in giro. Lui e Raiola. Poi non c'è nessuna intenzione. Di tornare veramente la Juventus. E se c'è. C'è solo nei limiti. In cui. Si devono strappare. Delle condizioni migliori. Quando col rinnovo del Manchester United. Perché appunto. Cosa scrive l'equip. L'equip scrive. Che Pogba. Resterà al Manchester United. Anche dopo. Questa stagione. E sta aspettando. Il rinnovo. Perché ha capito. Che i soldi. Che gli dà il Manchester United. Non glielo può dare la Juventus. Vuole restare al Manchester United. Per una questione di soldi. Per una questione di soldi. Tutto quello che ha mosso. Pogba nella sua carriera. È arrivato la Juve. Probabilmente perché. Aveva capito. Che allo United. Non avrebbe. Non avrebbe sfondato. Che la Juve. Gli avrebbe dato l'opportunità. Di sfondare. E quindi. È stata fatta questa. Ottima operazione. All'epoca. Di prenderlo praticamente a zero. Poi però. Se ne è andato. Per soldi. Per se ne è andato. Per guadagnare di più. Perché Raio. L'avrebbe preso. Un sacco di milioni. Di commissioni. Pagate dalla Juventus. Poi. Tutto questo giochino. Che sta andando avanti. Da anni. Con certi giornali. Che. Ogni volta che. Pogba. Sussurra. Vanno a mettere il megafono. Per ingigantire le sue parole. Con le pagine social. Con noi stessi. Che veniamo strumentalizzati. È servito. Per soldi. Per avere. Migliori condizioni. E continuare. A stare a galla. Nel Manchester United. Promettendoci. Un ritorno. Che non è mai avvenuto. E di conseguenza. Mai avverrà. È semplicemente. Una presa in giro. Probabilmente esagero. Probabilmente mi sbaglio. Non lo posso sapere. È la mia opinione. Diciamo. Rispetto ai fatti. È la mia ricostruzione. È la mia interpretazione. Che. Però. È argomentata. Ed è basata anche sull'esperienza. Che abbiamo visto. In questi anni. Personalmente. Pogba. Non lo rivolrei. A questo punto. Vista la presa in giro. Non lo rivolrei. Neanche se fosse. Il Manchester United. Da darci dei soldi. Neanche se Pogba. Venisse a parametro zero. Ma non zero. Ancora. Meno uno. Perché. Le commissioni a Ryan. Le pagasse il Manchester United. Magari anche una parte dello stipendio. Non lo vorrei comunque. Perché tutta questa presa in giro. Non la posso tollerare. Non la voglio sopportare. E lo dico anche a quelli. Che giustamente. Come tifosi. Si indignano. Quando altri giocatori. Si comportano male. Nei confronti della Juventus. Tesserati o non tesserati. Perché quando. Sono altri. Giustamente. Ergiamo delle barricate. E proteggiamo la nostra Juventus. La nostra amata Juventus. Da. Ogni ingerenza. Da ogni attacco. Quando si tratta di Pogba. Solo perché Pogba. Può fare tutto quello che vuole. Può prenderci in giro. Notte giorno. Mese dopo mese. Anno dopo anno. E poi sta ancora lì. A prendere i suoi soldi. E probabilmente. Continuerà a prendere i suoi soldi. Al Manchester United. Perché la Juve. Più di 5 milioni. Non gli può dare. Come da nuovo. Protocollo. Diciamo. Per il monte ingaggi. Alla Juventus. Rinnovi. Sì. Per chi già aveva. Più di 5 milioni. Vedasi di bala. E si vedrà poi. De Ligt. A quanto rinnoverà. Se rinnoverà. Ma chi arriva. Arriva con 5 milioni. Tranne Allegri. Che ne prende 7. E lì è stata fatta una scelta diversa. O addirittura 9. Non si è capito. Però. È a parte. Il punto è. I calciatori. Devono prendere. Massimo 5 milioni netti. Di stipendio. Pogba. Li accetta. Evidentemente no. Ed è infatti. Il motivo per cui. Nel 2020. Poi. Non è tornato. Vedremo. Che cosa succederà. Per l'ennesima volta. Ma io sono. Abbastanza sereno. Che Pogba. Non tornerà. Perché non vuol tornare. Perché non è quello. Il suo obiettivo. Ma continuerà. A parlare. E come. Se continuerà. Grazie per la vostra attenzione. Ditemi allora. Come la pensate. Nei commenti. Su queste enesime dichiarazioni. Di Pogba. Sul suo possibile ritorno. A Torino. Mettete like. Al video. Se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate le notifiche. Per non perdere. I prossimi video. Abbonatevi anche. Per tanti vantaggi. Tra cui. Le chat riservate. Sul mio server. Discord. Sempre ricche. Di calcio. E di discussioni. Ci vediamo. Molto presto. E sempre forza Juve.